Puntinismo e divisionismo. Queste due correnti artistiche hanno parecchie cose in comune, innanzitutto una certa precisione nell'esecuzione, addirittura a livelli quasi maniacali nel caso del puntinismo. Entrambe si basano sull'utilizzo dei colori primari utilizzati puri e sulla conoscenza delle teorie ottiche. Il puntinismo, che è francese, a origine nel 1870, realizzerà appunto opere esattamente a puntini, come dice il nome, mentre il divisionismo italiano di una ventina di anni dopo, realizzerà opere non proprio a puntini, ma con filamenti irregolari e utilizzerà anche questo stile per proporre anche dei soggetti un po' diversi, cioè non solo naturalistici, ma anche legati alle tematiche sociali. Teorie ottiche. Sia il divisionismo che soprattutto il puntinismo si basano sugli studi di un personaggio molto particolare, non un artista, ma un chimico, che sarà poi quello che inventerà anche la margarina, tanto per capirci che tipo di personaggio particolare fosse. Siavro si era accorto, lavorando in una fabbrica di stoffa, si era accorto che i colori dei tessuti venivano in pratica ricavati da molti fili di lana colorata, ma colorata solo con i colori primari, in pratica per risparmiare, non è che venivano tinti, ogni rotolone di lana veniva tinto del colore richiesto. Usavano solo i primari, ad esempio un panno di lana verde veniva realizzato con tanti fili gialli accostati a quelli azzurri, anche perché poi la resa finale dipende anche dall'occhio che lo guarda e l'occhio avrebbe in pratica mischiato quasi in modo automatico questi fili gialli e azzurri e il risultato sarebbe stato un bel panno di colore verde. Siavro si accorge quindi anche di un'altra cosa, del discorso del contrasto simultaneo. In pratica lui, lavorando proprio con i tessuti, si era accorto che accostando alcuni tessuti ad altri, il risultato quasi cambiava, il colore che aveva in mano, che ovviamente era quello ormai finito, il tessuto già finito, sembrava quasi cambiare, era quasi come se fosse una magia, non è una magia, è un effetto ottico. L'esempio più lampante è un panno verde appoggiato su un panno giallo e poi appoggiato su un panno azzurro. Cambierà solo otticamente ovviamente, è un effetto ottico che però richiederà anche uno studio molto scientifico che lo porterà a realizzare il suo cerchio ottico con 72 sfumature di colore. Da questo anche gli artisti, soprattutto i puntinisti, si accorgeranno che accostando il colore al suo complementare, che nel cerchio troviamo esattamente dal lato opposto, questo colore risulterà molto più vivace, molto più nitido e molto più scenoso, anche quindi questi studi scientifici porteranno poi alla realizzazione invece di opere assolutamente artistiche. Giorgio Serat e Paul Signac, francesi, pittori, entrambi i puntinisti, dipingono ovviamente utilizzando la tecnica del puntini. I puntini sono colori puri accostati che visti da vicino, come per esempio nel particolare della parata del circo nel volto di quest'uomo con i baffoni, si vede che sono colori un po' strani perché quest'uomo si ritrova addirittura con del blu in faccia, ovviamente lui dal vivo non è che aveva le guance blu, però l'ombra da lontano, utilizzando solo e esclusivamente i colori primari, sarà data proprio dall'accostamento dei puntini un po' rossi, un po' un po' blu, un po' gialli, un po' basta e basta perché i colori primari sono finiti, sono giallo, rosso, blu e ricordiamoci anche questo. La cosa strana appunto è che per esempio quando realizza una domenica pomeriggio all'isola della Grand Jatte, fa una bella domenica, una cosa molto tranquilla dove i francesi vanno a riposarsi, insomma in riva la senna e il risultato è molto particolare, addirittura quando venne esposta per la prima volta alla società degli artisti indipendenti, non piaco e gran che anzi non riscosse proprio successo, ma molte critiche, proprio perché il risultato finale di questa tecnica così precisa e così quasi maniacale dell'utilizzo di questi puntini porta quasi ad avere delle forme un po' fuori dal tempo, un po' fuori dal mondo, sono forme immobili, a volte sono anche un po' ridicole, certo qui la scena vuole essere proprio divertente, ci sono anche degli animaletti strani, c'è una scimmietta al guinzaglio di fianco a un cane, insomma non era una cosa proprio così normale, quindi in questo caso la cosa buffa è un po' voluta, però sono anche le forme che fatte appunto a puntini senza la sommatura classica risultano essere davvero un po' strane e sicuramente non molto realistiche. Giovanni Segantini, divisionista. Segantini è un trentino che vive fra Milano e la montagna proprio anche a causa di vari problemi legali che ebbe fra documenti, carte da bollo che mancavano, insomma era quasi apolide e quindi va avanti e indietro, fra Milano che vive insomma con molto fastidio, però gli serve per vivere anche per studiare e poi invece la montagna che ama follemente. Tecnicamente dipinge non a puntini, ma essendo divisionista dipinge con piccoli tratti di colori puri, i soggetti sono quasi bloccati nel tempo, possiamo quasi dire che Segantini riesce a mettere in posa anche le mucche al pascolo, quelle della Pinacoteca di Brera ad esempio. Molto spesso sembra quasi un po' Frederick perché realizza delle figure quando ci sono piccolissime di fronte a che cosa? La grandezza della montagna, la grandezza della montagna che è anche appunto la grandezza della natura e quindi le figure umane sono piccole perché contano davvero poco o nulla. Giuseppe Pellizza da Volpedo. Questo artista è quello che realizza l'opera che è forse la più famosa in assoluto di questo periodo. È un'opera che lui ha voluto fortemente, era proprio nata per essere il suo capolavoro, parte da lontano, ne fa più versioni, parte facendo prima solo la piazza Malaspina di Volpedo che era il suo paese, poi farà invece l'opera con gli ambasciatori della fame dove inserisce anche i personaggi e alla fine realizza ma non completa Fiumana che è quella attualmente esposta alla Pinacoteca di Brera. Rappresenta proprio un quadro simbolico perché diventerà più possibile il partito socialista, è quello che tratta i diritti dei lavoratori, sono temi assolutamente scomodi anche per l'epoca e soprattutto per l'epoca e ne fanno subito un quadro assolutamente non ben visto, ecco perché Fiumana addirittura non verrà terminato perché Pellizza da Volpedo se no avrebbe rischiato la galera. Farà delle piccole modifiche che vediamo in quarto stato che invece è l'opera finale che è esposta al Museo del Novecento a Milano. I personaggi marciano, marciano compatti, si marciano verso l'osservatore, compatti e anche abbastanza minacciosi, si allontano dal buio sullo sfondo, in Fiumana si vedono addirittura il messaggio molto chiaro, la fabbrica da un lato, le fattorie dall'altro, quindi lavoratori delle campagne, delle città unitevi per marciare contro chi vi sfrutta, quindi ecco perché quello non venne terminato, mentre in quarto stato non ci sono gli sfondi, c'è solo un po' di natura ma molto cupa, molto non era proprio perché i lavoratori si stanno allontanando dall'epoca buia, ma vediamo chi sono questi i lavoratori. In primo piano ci sono tre personaggi ben distinti, a sinistra c'è una persona anziana che tiene la mano nascosta nella camicia, probabilmente è proprio un riferimento alle persone anziane che ovviamente all'epoca non avevano la pensione, addirittura se si infortunavano in questo caso la mano nascosta, fa pensare, non avevano comunque nessun tipo di risargimento. Al centro avanza invece un personaggio che fra l'altro era anche conosciuto all'epoca, è uno dei primi sindacalisti dell'epoca e attenzione a come tiene la giacca, non la tiene in modo assolutamente casuale, ma è ben studiata, perché il suo modo di tenere la giacca è esattamente uguale al modo con cui il Davide Michelangelo teneva la fionda e cosa aveva fatto il Davide Michelangelo? Piccolo aveva comunque sconfitto il gigante Golia, un po' come qua si vuole augurare al sindacalista appunto di sconfiggere i sfruttatori dei lavoratori, quindi attenzione è minaccioso anche in questo suo incedere comunque calmo. Alla sua sinistra c'è una donna che è probabilmente anche questo un ritratto della moglie Teresa, la moglie di Giuseppe Pellizzo da Volpedo che rappresenta i diritti negati alle donne, pare che lei fosse stata fortunata, era riuscita a partorire di notte e quindi al mattino era riuscita direttamente a andare in fabbrica senza perdere il posto di lavoro, quindi sono tre figure emblematiche per dei diritti che all'epoca assolutamente non c'erano. Due curiosità, ancora oggi gli abitanti di Volpedo si riuniscono e stilano con vestiti appunto come erano stati abbigliati i loro antenati quando avevano posato per quest'opera. Altra piccola chicca, guardate che questo quadro, il quarto stato, è esposto al Museo del Novecento a Milano, ma si può vedere gratuitamente apposta perché all'epoca fu proprio comprato grazie a una sottoscrizione pubblica dei cittadini di Milano e quindi per legge deve essere messo in mostra, sì ma gratuitamente a tutti, ecco perché ancora adesso è conservato all'entrata del Museo del Novecento prima delle casse. Gaetano Previati, Previati è un pittore molto particolare perché inizialmente appartiene alla scapigliatura milanese, poi però appunto si dedicherà al divisionismo, ma anticiperà anche l'art nouveau e addirittura in qualche caso anche il futurismo, quindi è davvero un pittore particolare che ricorda cose antiche come ad esempio nel funerale della Vergine in Pinacoteca di Brera, riprende addirittura i ritmi lenti delle processioni dei bizantini, vedete tutte queste donne che accompagnano alla tomba la compagna morta, sembrano proprio le vergini dei mosaici bizantini di Ravenna, in altri casi invece ad esempio nel Caro del Sole oppure nella creazione della luce anticipa quasi il futurismo perché sono opere che si muovono, si muovono però come in modo strano, si muovono grazie alla luce, si muovono di luce, ma sono realizzate addirittura con dei filamenti di luce che sembrano quasi farle esplodere e quindi questa pittura sembra quasi in movimento, un po' come sarà la pittura futurista.